ciao ragazze e ragazzi come state sto aspettando mia figlia nulla oggi ha fatto un pochettino di pioggerellina vedete sabbia avevo appena arrivata questa mattina non ho parole volevo farvi vedere il 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 gloss che ho utilizzato oggi va meglio decisamente il gloss è quello di Pat Meta ed è questo qui in sintonia con il mio ombretto che è di quella palette mega che avevo preso su amazon avevo mostrato già adesso mi viene in mente il nome non me lo ricordo proprio è già grande dentro del blu anzi un blu tutto glitterato poi qui alla base avevo messo anche le liner di tutto sberlucicoso in questi giorni finalmente fa un po caldo e ho utilizzato la mia borsa di paglia e niente questo è quello che volevo diciamo volevo salutarvi tutto qui vi mando un bacione ciao ciao